Sabato 2 maggio i piccoli atleti della categoria giovanissimi si sono ritrovati a Ronco di Gussago per contendersi il quinto trofeo Contea di Ronco, una manifestazione che ormai è entrata a pieno titolo nel calendario giovanile bresciano e che metterà alla dura prova i mini atleti con il suo classico arrivo in leggera salita. Quest'oggi gli organizzatori del gruppo sportivo Ronco hanno deciso di sdoppiare tutte le batterie quindi assisteremo a ben 12 gare, un modo simpatico anche per premiare più atleti del solito. E siamo già pronti per vedere l'arrivo della prima batteria è proprio un atleta di casa, il piccolo Giulio Franceschini che vince precedendo Riccardo Natale e Alex Meloni. Leggiamo quindi le classifiche finali partendo dal quinto posto di Alessia Baratta del progetto ciclismo Rodengo Saiano. Quarto Matteo Mori della Springedi, terzo Alex Meloni del progetto ciclismo Rodengo Saiano, secondo Riccardo Natale della Freccia Rossa e vincitore Giulio Franceschini della Ronco. Tra le bimbe terzo gradino del podio per Martina Benvenuti della Mazzano, seconda Margherita Putelli della Castelmella e vincitrice Alessia Baratta del Rodengo.